Via 25 Aprile, zona Case Bianche, una situazione già denunciata da anni e anni, una cantinola, uno scantinato completamente immerso dalle acque, parliamo di acque, magari fossero acque pulite, parliamo di acqua di difogna, parliamo di liquami, ma c'è un problema più grosso che riguarda proprio il sistema idrico, il funzionamento delle varie tubature, siamo con un abitante della zona, Carmine Scarnera, che vuol dirci qualcosa al riguardo. Niente, qui dipende dall'adubbazione pure, perché questa adubbazione ci vuole essere tutta cambiata, i tombini che stanno qua, arriva a un certo punto là, alla corva, si affoga, evidentemente che cosa si strozza proprio, si attapa come va a dire, tutto quell'acqua sporca che non riesce ad andare va nei scantinati. Ma a confluire lì e in tassa gli scantinati. Ricorda che si è spaccata anche l'adubbatura dove sale l'acqua, si vuole essere fatta tutta l'adubbazione di qua, la dovevano fare, prima di fare la villetta, la dovevano fare, dobbiamo fare, dobbiamo fare e non hanno fatto niente. E non siamo ancora qua a merda fino a Gabb. Come vedete, giustamente come dice l'amico Carmine Scarnera, qui il problema è strutturale, è un problema appunto di sistema idrico, di tubature, che evidentemente se non viene risolto alla radice, poi gli effetti sono quelli. Ma evidentemente noi all'OIACP e al comune di Tarnato abbiamo dei tecnici scienziati che non sono in grado di comprendere il problema. È giusto, questa è la situazione di qua. Se non si fa questo lavoro qua della tubazione, siamo sempre a punto e a capo. E' inutile che dobbiamo chiamare sempre la televisione, dobbiamo chiamare sempre a quelli che stappano i tombini. Dipende proprio da quella parte, dalla corva. Dipende proprio da quella parte, dalla corva.